Un saluto a tutti i campanelli, non campanelli d'ottobre, scusatemi se chiusa la telecamera prima, ma adesso riprendo il video. Vedete? Che qua adesso stanno suonando le 19, e qua in questa maestrosa basilica... ...e sono suonate le 19 e fra due minuti suona l'angelus. E adesso stiamo a aspettare questo angelus. Queste qui sono delle meravigliose, qui abbiamo già sentito il suono di una delle campane, e questa qui ha un bellissimo suono. Adesso vi faccio vedere anche un attimo, vedete qua c'è la strada, aspettate un attimo, che corro. Ecco qua, non ve l'avevamo mostrato questo. Guardate un po' che hai messo campanile. Eh sì, una volta la popolazione sapeva fare delle cose giganti. L'avevo visto dalla strada questo campanile. Questo campanile non so quante campane tenga, però spero che non siano due. Ma penso che saranno molto più grandi, e molto di più, anzi spero che siano molto di più le due campane. Perché con questa immensa chiesa. Vedete? Ecco. Adesso entriamo un attimo ancora sotto il campanile. Ecco. Ecco, suonate le 19 e fra due. E te, suonate le 19 e fra due. Non è chiusa la porta. È chiusa. Vedete? Vedete? Guardate, qua sono 19 e fra due. Vedete? Lì sta dicendo suoneria in corso. Che bello. Elegate? Ecco. Elegate? Grazie a tutti. Sotto qua, signora. Ecco, ci stanno fermando. Ecco, ci stanno fermando. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo a vedere cosa dice il computer all'interno del campanile. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.